Per uscire dal pantano la Lega fa un gesto di responsabilità all'interno del centrodestra, noi vogliamo evitare che si perda altro tempo prezioso, vogliamo che il Parlamento comincia a lavorare il prima possibile, non abbiamo chiesto nulla per noi, tanto che pur avendo preso i voti non chiediamo né la Presidenza della Camera né la Presidenza del Senato, però se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni, qua si fa notte e si fanno le giornate, quindi abbiamo scelto al Senato di votare un candidato del centrodestra, un candidato di Forza Italia, per vedere se le altre opposizioni a partire dai 5 Stelle hanno dei pregiudizi solo su un nome o sono disponibili a ragionare per far partire i lavori del Parlamento. E quindi è un atto di amore verso il Paese, verso il Parlamento e verso il centrodestra e speriamo che tutti abbiano la stessa responsabilità e facciano, se serve, mezzo passo indietro come abbiamo fatto qui. Abbiamo votato la Bernina. Ho comunicato la scelta al Presidente Berlusconi.